Linozzo, Nino Marchi, Nino Marchi Ok abbiamo con noi un caro amico che viene da Catania, signori Nino Marchi Grazie Ma lui non partecipa però, lo sa No, no, che partecipa? Io devo essere sincero, sono venuto anche perché Claudio qui e i gemelli Kessler al maschile Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.